Ancora è tranquilla, ma ultimamente comincia a essere un pochino pericolosa. Ci sono dei punti che non sono tanto validi da considerare, perché c'è un po' di delinquenza anche qua. Erano da poco passate le 21.30 quando è partita la richiesta di soccorso un giovane con gravi ferite di arma da taglio. A chiamare il 112 è stato lo stesso aggredito un uomo di 30 anni. Ad indicatore frazione alle porte di Arezzo sono così intervenuti soccorritori. Ultimamente ci sono stati alcuni fatti poco piacevoli. Successo l'accortellamento, l'incidente, strade pericolose. L'uomo è stato trovato sanguinante su questa panchina della fermata dell'autobus con ferite lievi al collo e alle braccia. Lesioni invece più gravi quelle all'addome. Il trentenne è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Donato di Arezzo, dove nella notte è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Allertata anche la polizia di Stato ad indagare la squadra mobile che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora nessuna traccia dell'aggressore, da chiarire poi anche movente ed arma utilizzata. Si penserebbe ad un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista. Il trentenne era già noto alle forze dell'ordine per reati di droga. Sappiamo che esiste un po' di spaccio, io non ho elementi per poter dire se è collegato, ma potrebbe. Solamente qualche giorno fa un'altra aggressione a Campodimarte, per la quale è stato denunciato un 25enne.